professore a questo punto le farei un'ultima domanda perché ho un'ultima curiosità che è un po più tecnica un po più particolare che è più rivolta al mondo mio da avvocato e professore del senso Matteo Savaresi allora i rischi della disoccupazione sono dietro l'angolo disoccupazione di massa fra l'altro perché camionisti taxi aerei il trasporto in generale le barche qualsiasi cosa ci venga in mente verrà completamente stravolto vi faccio entrambi un paio di esempi particolari sono stati percorsi 885 chilometri in totale guida autonoma senza pilota a bordo ovviamente ci sono stati tutti i permessi del caso dalla Tucson Pole specializzata in guida dei mezzi pesanti poi la cruise dgm della Honda ha aperto il servizio di robot taxi a San Francisco pur vero che parte dalle 11 alle 5 di mattina però è totalmente senza piloti a bordo e non c'è nessuno in più le chiederei se può se ha un'idea perché io me la sto anche io leggendo quella per farmi anche una mia una mia idea a livello assicurativo su chi ricade la responsabilità di un eventuale incidente sulla software house per esempio che ha fatto il progetto il programma o sul produttore di autoveicoli con o senza software interna o sul privato acquirente e lascio stare tutte quante domande etiche su chi quale su cosa sceglie il robot se investire una signora anziana e salvare una famiglia che all'interno del veicolo perché queste sono cose un po più complesse però anche quelle hanno un loro senso insomma comunque intanto le ho fatto già un po di domande se ci dà una risposta come ultima come chiusura di questo convegno va bene sì allora parto in realtà la battuta dell'ultima con la questione etica ovviamente è studiata diciamo che in realtà andava molto di moda qualche anno fa a questo punto diciamo dal punto di vista tecnico il problema è diciamo risolto cioè si tratta di capire chi norma che cosa cioè dal punto di vista tecnico noi sappiamo riconoscere le varie situazioni cioè con le telecamere con il live sappiamo riconoscere le varie situazioni e da capire se qualcuno vorrà normare le priorità oggi non sono normate oggi nel codice della strada non c'è scritto che io devo non un caso di investo il cane investo il bambino faccio male a me non è normato quindi la domanda è resterà non normato o qualcuno si prenderà l'onere di normarlo quindi punto di domanda sulla parte assicurativa ma in realtà anche qui la risposta è relativamente semplice allora nel momento in cui ci sarà la guida livello 3 questo è il vero spartiacque la guida livello 3 il pilota inserendo il guidatore inserendo il pilota automatico è autorizzato a disingaggiarsi quindi sicuramente in quel momento sta trasferendo la responsabilità diciamo all'automobile quindi sicuramente non è più lui responsabile della guida c'è un errore in quella fase lì non è più imputabile al pilota stesso realisticamente la responsabilità cadrà sul costruttore dell'automobile il quale peraltro potrebbe aver l'accordo con lo sviluppo eventualmente se si fosse appoggiato a una società che fa lo sviluppo del pilota automatico eventualmente lui sarà lui a ribaltare la responsabilità su quella però in prima istanza è probabile che ci saranno due soggetti il car maker che fornisce l'auto che ha questa funzione e il guidatore che poi ci siano pacchetti assicurativi che coprono entrambe le volute probabile è probabile però anche perché la casistica sarà molto bassa si presume ma qui teoricamente assolutamente diciamo che l'auto utoma nasce per andare a zero incidenti cioè questa è la visione del futuro quindi è molto probabile che questa cioè l'incidentabilità di questi automobili diventerà si assottiglierà sempre di più l'aspetto di l'automazione toglie posti lavoro oddio questo qui è un come dire è un è un filo rouge io io per lavoro faccio l'automazione io sono un ingegnere la persona sbagliata ha chiesto la persona sbagliata è chiaro che in l'automazione dovrebbe togliere all'uomo i mestieri noiosi quindi devo andare in autostrada per cinque ore è una cosa noiosa pericolosa ti tolgo questo onere cioè questo è l'idea di portare l'uomo a fare lavori a fare compiti impiegare il proprio tempo in cose più interessanti più utili più creative questo è lo spirito generale quindi a me piace dirla così quindi toglierà qualche posto di lavoro noioso e pericoloso e creare creerà dei posti di lavoro come dire più interessanti più meno meno affaticanti meno pericolosi speriamo vediamo la sotto un'ottica di di ottimismo vediamola così ok ok vediamo va bene e tra l'altro se posso dire se posso dire che scusa una cosa anche dal punto di vista insomma dell'utilizzo renderebbe le auto quasi come delle dei vagoni di treni autonomi nel senso che uno oltre ad avere la possibilità di fare altra attività all'interno invece che di guidare ma pensiamo a gli epilettici che non possono guidare avrebbero la possibilità comunque di andare in giro con un mezzo come gli anziani come tanti che non possono avere la patente quindi io trovo che sia una cosa estremamente interessante le parole del professore mi affascino d'accordo sono d'accordo benissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti